Come da tradizione a Ferragosto alcuni esponenti dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, che è una lega internazionale di cittadini e parlamentari per l'abolizione della pena di morte del mondo, che fu fondata a Bruxelles nel 1993 e costituente il partito radicale transnazionale, hanno fatto visita ai detenuti delle carceri italiane. A Vibo Valenza è toccato a Giuseppe Candido e Rocco Ruffa, rispettivamente segretario e tesoriere dell'associazione Abolire la Miseria 19 maggio, e a Giovanna Canigula. Siamo stati in visita, secondo tradizione radicale, pannelliana, proprio il giorno di Ferragosto, perché è il giorno di Ferragosto che riusciamo a portare il messaggio spesso contro Spem, essere speranza contro ogni speranza, che ormai era diventata una fissazione di Marco Pannella negli ultimi periodi, ed è quella di essere vicina alla popolazione detenuta, ma anche alla popolazione detenente, che stavamo acquisendo questo ultimo dato. Dovrebbero essere in 246 unità di agenti di polizia penitenziaria, in realtà sono 180, 181 per la precisione, sottostimati come agenti, quindi al netto di questa situazione, che ricade direttamente sulle attività trattamentali che possono essere effettuate, che volete? Bisogna dire la verità, la cosa che più ci hanno segnalato i detenuti è proprio questa, il dover trascorrere 22 ore al giorno dentro quelle che dovrebbero essere delle celle di pernottamento, 22 ore al giorno e soltanto due ore poi all'esterno per la socialità. Oggi era una giornata speciale in cui avrebbero trascorso adesso da mezzogiorno alle 16, 6 ore fuori dalle celle, quindi con le celle aperte in socialità, ma è una situazione che ovviamente si verifica i giorni di festa, i giorni di ferragosto, i giorni di speciali, mettiamola così, che non può essere invece effettuata tutti i giorni perché, come lamentano anche i detenuti, non ci sono gli sufficienti agenti di polizia penitenziaria per fare questa attività a celle aperte.